Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di raccogliere 5 anelli alla foresta frignante. Per la prima volta, anzi per la seconda volta, la sfida degli anelli non è buggata, quindi può essere completata, perché nelle scorse settimane purtroppo era buggata e alla fine Epic Games l'ha sostituita. Questa settimana no, in questa settimana vi ritroverete a raccogliere gli anelli e il primo si trova praticamente su questo albero, vedete? Adesso vi mostro la posizione. Quindi vi avvicinate e viene conteggiato. L'anello si trova qui, il primo anello. Passiamo al secondo. Eccomi al secondo anello. Eccolo qua. Si trova praticamente qui, quindi il primo anello stava qui su, il secondo anello si trova praticamente qui. Andiamo al terzo anello. Eccomi al terzo anello, che si trova un po' più in là. Sono, diciamo, quasi tutti vicini. Eccolo qui. Questo è il terzo anello. Quindi sono partito da qua. Uno, due, tre. Andiamo gli altri due. Il quarto anello si trova praticamente qua. Adesso vi mostro la posizione. Qui, quindi mi sono spostato da qui a qui. Vedete? Sono sempre alla foresta frignante. e l'ultimo anello praticamente si trova qui. Vedete? Quindi sono partito da qui. Uno, due, tre, quattro, cinque.